rimanga al di là delle barriere in quanto aumentiamo di cilindrata di potenza e quindi attenersi alle disposizioni di sicurezza allora tutto è pronto bagnina verde che sta arrivando al fondo dello schieramento Fulvio da Hildia in questo momento subito grande toccate si è detto anche l'aventone e intanto con il numero 96 passa in questo momento e ha cominciato la prima posizione questo mantiene la linea della sua foto prototipo e intanto con il numero 1 è una pista alcuni metri per carti su due ruote da Paolo di Cellane grande spettacolo grande battaglia in eclusa parte che arriva già il buon genizio ma che il pubblico dell'autodepolition ha saputo ogni volta che ci sono stati si diceva che non è00 e si diceva che non è00 ma che non è00 ma che non è00 ma che non è00 ma che non è00 E' un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte. Ultime curve, la potenza incredibile del punto prototipo, che si attraverso la carica a terra, sul circuito di Sant'Ambrogio, tra i traiettori. E' un'altra parte, un'altra parte. E' un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte. E' un'altra parte, un'altra parte. E taglia in prima posizione il numero 777, seguito malo 59. e a seguire tutti gli altri